Ciao Laura e grazie di essere qui con noi. Questa intervista in particolare perché ci sono due testi tuoi che sono stati tradotti in francese che si trovano nel libro Il teatro italiano in l'esistenza, scintille, étincelle, in francese, vivo in una giungla e dormo sulle spine, io vivo in una jungle e dormo sulle epine. Grazie, sono molto onorata e felice di questa occasione. Allora, c'è una domanda che facciamo anche a tutti e tutte, a che cosa hai resistito tu? Cioè, io ho un'idea, diciamo, di un sacco di cose, direi, però. È una bellissima domanda, prima di tutto. Allora, sì, sono una persona abbastanza resistente, devo dire. È un tema che mi sta molto a cuore, che ho affrontato anche nel mio lavoro, varie forme di resistenza, anche la resistenza, quella storica, ecco, la resistenza delle donne, che è un tema, credo, molto importante, a cui sono molto sensibile. Io credo di aver resistito alla tentazione di cedere a dei compromessi. Un po' forse anche la mia indole, quella di resistere a questo tipo di tentazioni, cioè sono una persona abbastanza intransigente, però è chiaro che nel percorso di una vita professionale e artistica, i compromessi che ti vengono presentati sono molti, ma anche compromessi rispetto a quella che è una tua linea artistica. E io non ho resistito, ecco, in questo senso è una cosa di cui vado piuttosto fiera, ecco, di i compromessi che significa trasformarsi in qualcosa che non si è, venire meno a dei propri principi artistici e anche etici, che spesso, per quanto mi riguarda, c'è un intreccio tra etica ed estetica, credo che ci debba essere. E quindi questa mia, che alcuni definiscono magari rigidità, però è una caratteristica a cui non sono venuta a meno e spero di resistere ancora in questo senso. Questa forse è la prima cosa. Anche significa resistere a trasformarsi in un personaggio che non si è. Nel nostro ambiente, no, spesso ci si trasforma in personaggi per mantenere visibilità, no? È una cosa che io non ho mai voluto, non sono mai riuscita a fare, ecco, trasformarmi nel personaggio della regista, nel personaggio dell'artista, nel personaggio della direttrice. No, resisto. Ma tu, tu lavori sempre, c'è un modo un po' particolare, nel senso che tu lavori anche con gli attori e attrici, soprattutto, senza essere un'attrice, mi ricordo, perché abbiamo anche lavorato insieme, che spesso la gente dice che tu scrivi come un'attrice, che come una che vive nel corpo, diciamo, il teatro, mentre non sei mai andata in scena? No, diciamo che no, non è quella la mia strada. Ho provato così, ma sono stati degli esperimenti non per diventare attrice, ma per capire che cosa significa il lavoro dell'attore. Quindi, nel mio percorso mi sono posta dall'altra parte, ma proprio con questa finalità, capire qual è il meccanismo fisico, emotivo, mentale dell'attore per farsi attraversare da un testo, per restituire con quella strana cosa che è la verità, ma la finzione al tempo stesso, con emozione forte al pubblico. Per esempio, mi viene in mente il lavoro di Scintille con Laura Curino, in particolare, ma con anche altre attrici che lo hanno interpretato, che è da un lato un lavoro estremamente tecnico, perché l'attrice deve compiere una drammaturgia di gesti difficilissima, perché deve fare mille cose, deve sostanzialmente cucire delle camicette, quindi taglia, cuce, misura, sposta, quindi compie una drammaturgia continua, quasi ossessiva di gesti, che deve essere precisissima e nel frattempo deve essere attraversata da decine di personaggi, perché Scintille è una matriosca drammaturgica, cioè un testo che racconta altri personaggi, che raccontano altri personaggi, quindi richiede da un lato una tecnica, un virtuosismo pazzesco, dall'altro però una grande capacità emotiva, perché se lo spettacolo viene affrontato solo con tecnica non funziona, e quindi questo doppio binario è estremamente affascinante. Due dei tuoi testi sono stati presentati in Francia, Don Inguera e Scintille. Scintille racconta la storia dell'immigrazione italiana e invece con Vivo in una giungla racconti la storia dell'immigrazione di un giovane, di un ragazzo, e quindi come si è fatto? Perché il tema dell'immigrazione è uno dei due temi che attraversa tutta la tua opera. Come si è fatto questo passaggio dalla vecchia immigrazione storica italiana all'immigrazione di oggi? Io penso che capitano nella vita degli incontri e questi incontri poi ti spostano, ti accendono, ti danno come una folgorazione e capisci che quell'incontro è quello che stavi cercando. Quando per la prima volta mi hanno parlato della storia della fabbrica di camicette che ha preso fuoco a New York, in me si è accesa proprio una scintilla come un innamoramento, questa storia di viaggi, di andare alla ricerca dell'ignoto a quei tempi dove l'ignoto l'altrove era davvero ignoto, era davvero altrove. Io l'avevo già affrontato in un altro spettacolo scritto a quattro mani con Alessandra Vannucci che era a partenza, che era uno spettacolo molto corale, un affresco proprio e quindi mi ero già innamorata di questo argomento del viaggio, della partenza, delle scritture proprio di testi di queste persone che semi analfabeti scrivevano delle lettere a casa, dei diari che oggi sono struggenti e carichi di grande oralità, quindi interessanti poi per il teatro. Un incontro così poi io l'ho avuto anche con un gruppo di giovani rifugiati nel 2011, grazie a una mia carissima amica collaboratrice che allora era avvocato penalista, oggi è commissario UNHCR, la quale mi disse tu devi assolutamente andare in questa comunità per minori richiedenti asilo, troverai un incredibile patrimonio di storie e io le dissi guarda non so, io sono europea, donna, queste storie non mi appartengono, non so, non appartengono alla mia, lei mi trascinò e lì devo dire appunto di nuovo ebbe questo incontro folgorante perché questi ragazzi di provenienze diversissime, con storie diversissime, culture diversissime perché parliamo dall'Africa all'Asia, giovani, erano tutti ragazzi maschi in questa comunità, erano esplosivi perché avevano una carica invece di umanità, sicuramente di dolore, ma anche di vitalità e di voglia di vivere, di voglia di fare, di curiosità perché avevano affrontato un viaggio pazzesco, chi più violento, chi più drammatico, chi meno, ma comunque un viaggio pazzesco per arrivare in un luogo non accoglientissimo dove loro cercavano la felicità, alcuni anche proprio la salvezza, altri semplicemente la felicità che è un diritto sacrosanto e quindi tutta questa energia, tutte queste esplosioni di storie, di storie forti che la mia generazione aveva un po' sentito dai nonni, ma insomma le storie della nostra generazione sono storie magari più private, più intime, più introspettive, lì erano storie che in tre anni succedevano esplosioni, distruzione di case, distruzione di famiglia, attraversamento di migliaia di chilometri, mi sembrava di essere tornata alle storie dei nonni che mi avevano folgorato durante l'infanzia, io sono cresciuta con le storie dei nonni, dei bombardamenti, con le storie degli sfollati, le storie della seconda guerra mondiale e quindi c'è stata anche lì appunto una specie di cortocircuito e che mi ha riportato di fronte a me quei ragazzi di cui mi parlavano appunto, quegli anziani che dicevano no, noi eravamo ebrei, siamo scappati sulle montagne della Svizzera, siamo riusciti a scappare, i nostri zii invece sono morti tutti, cioè le stesse storie, però vedevo le persone davanti a me che magari avevano la pelle un po' più scura, ma erano quelle storie lì e quindi è stato interessantissimo l'incontro umano e artistico. Grazie. Che sono i tuoi progetti adesso? Allora adesso diciamo che quando sono a Catania l'impegno organizzativo-amministrativo era grande anche prima in una piccola realtà, cioè l'Italia ha questa fantastica caratteristica che riesce a distruggere il teatro con la burocrazia, cioè c'è una sproporzione, non so se la Francia sia così, ma l'Italia è fantastica, cioè c'è una sproporzione tra la competenza e l'energia burocratica che ti viene richiesta e quella artistica che è è siderale, è kafkiana, non so come dire. Quindi in questo non è cambiato molto, ecco. Siamo solo di più, ma la proporzione è sempre la stessa. Diciamo che ho iniziato a lavorare su un progetto dedicato alle figure femminili eversive nella tragedia greca. L'idea era quella di partire anche un po' dalle radici di quel territorio, quindi Catania è molto legata alla grecità, quella zona della Sicilia orientale è molto legata alla grecità e si sente, si percepisce negli spazi e nella cultura. E poi avevo anche voglia di affrontare dei grandi classici, però al tempo stesso passando attraverso la parola, quindi con l'aiuto anche di Alessandra Vannucci, iniziando proprio dal testo greco, con il vecchio dizionario di greco dei tempi del liceo, proprio ci siamo messi lì e abbiamo tradotto, adattato Antigo nell'anno scorso e Baccanti quest'anno, che poi è la prima data in scena con interruzione di tournée, ahimè, per il Covid, Baccanti è arrivato a compimento ma purtroppo non è ancora andato in scena. È stata veramente un'avventura potentissima perché questi due testi hanno un potere di parlare al presente che è incredibile. Cioè facevamo Antigone e c'era Greta da una parte, c'era la capitana Carola dall'altra e tu dici, ma l'avete fatto apposta. No, noi l'avevamo fatto prima, poi sono intervenuti questi fatti, ma è questo testo che ha questa potenza. E poi il caso Cucchi, cioè su Antigone erano infinite le relazioni. Su Baccanti, il giornalista che è venuto a fare un reportage da noi dice, beh, sembra la storia del Covid, ma no, l'abbiamo iniziato e il Covid non sa neanche cosa fosse, no? Quindi davvero questi testi hanno questo potere visionario, ma forse perché noi siamo cresciuti con questi testi nel nostro DNA. Cioè non erano loro che guardavano al futuro, ma siamo noi che siamo impregnati di quella cultura lì. È in noi. No, prima di richiudere volevo sapere, perché parlavi molto di viaggio, di storie che passano da una generazione all'altra. Come l'hai vissuto tu il passaggio a un'altra lingua, cioè il francese dei tuoi testi? È il lavoro di regista in Francia, visto che hai fatto un allestimento in Francia, è la percezione del pubblico. Come l'hai vissuto? Sì, allora, il, beh, io mi fido molto del traduttore, non, quindi mi fido ciecamente, quindi sono, mi fido, mi fido, ecco. Il lavoro su Scintilla è stato molto difficile, proprio perché l'attrice forse, cioè l'attrice francese ha un modo di lavorare diverso rispetto al nostro che forse pretende tantissimo in pochissimo tempo. C'è una tradizione forse nostra attoriale di, non so, che forse viene dalla commedia dell'arte, dove c'è quella buona dose anche di artigianato che poi ci mette l'attore in una situazione di rischio per cui l'attore si butta di più. Invece l'esperienza piccola che ho avuto io è stata molto più prudente, forse più lenta nel raggiungere, ma forse proprio due scuole, due scuole diverse, ma poi ho avuto un'unica esperienza, anzi vorrei avere un'altra adesso con questo testo, che è un testo anche con un linguaggio più, Scintilla aveva un linguaggio che voleva evocare un po' il sapore del linguaggio delle nonne, degli inizi del secolo, del novecento, invece Vivo in una giungla è una lingua contemporanea, secca, dura per quanto riguarda la protagonista femminile e il protagonista maschile, il ragazzo parla un italiano sbagliato e quindi questo credo che sia stato anche interessante nella traduzione perché è un italiano con degli errori, ma al tempo stesso è poetico e come era un po' l'italiano di questi ragazzi quando cominciavano ad impararlo, che commettevano degli errori ma questi errori erano poi o divertenti oppure diventavano poetici. Vorrei sottolineare che la storia, io dico è stata scritta insieme a questo ragazzo, Shazel Iqbal, perché tutte quelle storie lì me le raccontate lui, quindi io ci tengo a dare, è ovvio che l'ho scritta io, l'ho drammaturgica, però senza le storie raccontate mi da questo ragazzo, non sarebbe nato il testo, lui poi ha voluto leggere tutto e dire questo sì, questo no, questo non funziona, questo non l'avevo detto esattamente così ed è stata molto emozionante poi quando lo spettacolo è andato in scena in Italia, avere lui tra il pubblico perché per vari motivi non ne aveva assistito alle prove perché era in un'altra città. Quando poi ha visto lo spettacolo è stato forte per lui e per gli attori anche e per l'attore che lo doveva interpretare è stato molto forte, è forte interpretare una persona viva, no? Cioè una persona che c'è di cui sei andato a scandagliare come attore tutti i dettagli psicologici, il non detto e poi improvvisamente te lo vedi come spettatore. È stato molto emozionante, molto bello. Abbiamo fatto tutto un percorso di lavoro teatrale con questi giovani stranieri, viaggiatori, viaggiatori, definiamoci viaggiatori che nasce da uno spettacolo corale sull'odissea e i ragazzi erano appena arrivati quindi erano completamente fuori di testa, alcuni non parlavano una parola di italiano, tra loro litigavano, c'è una situazione folle e abbiamo fatto questo odissea laboratoriale per sei mesi, poi alcuni di loro che erano bravissimi in scena abbiamo detto facciamo un contratto, facciamo lo spettacolo e quindi è stato il loro primo contratto di lavoro in Italia, bellissima cosa. Questo odissea devo dire che era piaciuto molto, ha fatto tantissime reciti, era diventato un po' uno spettacolo a cui molti si erano affezionati, anche perché non era così comune vedere afghani, pakistani, nigeriani, senegalesi, tutti sullo stesso palcoscenico, con questa energia così potente no? Raccontare una storia della nostra cultura ma che loro avevano capito benissimo, senza cioè la storia lascio la mia terra, oppure mio padre è sparito, quindi Telemaco, insomma avevano capito immediatamente tutto quello che è l'odissea. Poi uno di loro mi ha raccontato la sua vita, questo ragazzo era timidissimo, un ragazzo afgano, bravissimo ragazzo e aveva questa esigenza di raccontarsi ma in un italiano davvero elementare e mi ha detto devo raccontare, scrivi per favore. Va bene ci vedevamo la domenica pomeriggio, lui mi raccontava, mentre raccontava naturalmente prendeva coscienza di sé della propria storia ma imparava anche l'italiano e io scrivevo su questo iPad, su questa panchina qui al porto e mi ricordo che a volte qualcuno era seduto vicino a noi e ci guardava perché sentiva questa storia pazzesca, diceva incredibile, perché ancora non eravamo arrivati dove queste storie sono ormai le conosciamo bene, sappiamo un po' tutto, allora ancora non si sapeva. Allora abbiamo scritto questo testo e poi lui mi dice lo voglio interpretare, gli ho detto ma non ce la farai mai, è un monologo, tu come fai a imparare a memoria questa cosa che non sai quasi leggere? Dammi una chance, dammi una chance, insomma alla fine una fatica infernale. Lui è diventato l'interprete di se stesso e abbiamo fatto questo spettacolo per tantissime recite che era veramente straziante e qualcuno diceva ti piace fare l'attore? Lui dice no, guarda veramente raccontare la mia storia non è un piacere, cioè non c'è dell'ego, del narcisismo perché io ogni volta soffro perché è la mia storia e che bisogna raccontarla, dovete sapere questa cosa e quindi poi c'è stata l'altra cosa molto bella di Bianco e Nero, c'era un ragazzo nigeriano con una sicurezza apparente perlomeno, però una grande quadratura valoriale con cui io mi scontravo tantissimo perché era maschilista, estremamente religioso ma di una religiosità dogmatica, un po' prepotente e questi nostri dialoghi, però ci sono sempre evoluti molto bene, i nostri dialoghi che erano anche abbastanza esilaranti, li abbiamo trasformati in uno spettacolo bianco e nero, quindi l'incontro scontro tra Africa e Europa maschile e femminile e poi infine questo giovane, sempre di questo gruppo di Odissea, mi diceva anche io vorrei fare qualcosa, però in scena non mi piace stare tanto, poi stava lavorando, però io ho tutte queste storie che in realtà mi aveva già molto raccontato e io ho detto dai proviamo a mettere tutto insieme e è nata questa storia, vive in una giungla, dormo sulle spine che era peraltro una delle prime cose che lui mi aveva detto quando ci eravamo conosciuti e naturalmente in urdu, poi c'era stato un traduttore che è traduttore e alla fine era arrivata questa bellissima, vive in una giungla dormo sulle spine che peraltro ha anche una struttura metrica in italiano che è diventato un po' il leitmotiv di tutto questo percorso di lavoro, di tutti questi spettacoli. Ti salutiamo, ti ringrazio per questa e quella bellissima intervista e speriamo di vederti prossimamente in Francia. Te lo auguro anche io perché significherà anche che tutto questo è finito e ci si può spostare e si può tornare in scena.